Ecco Olivia, è una bellissima cagnolina di un anno, è qua con noi da qualche mese e arriva dal canile dell'Abruzzo. Sta imparando adesso ad andare un pochino al guinzaglio, è una cagnolina molto dolce e socievole. Vieni tata, ma cos'è bella, e io sto masticando lì, ok. Grazie a tutti.